10 febbraio 1962, una scena del genere te la immagini nella nebbia di notte o all'alba, invece sono le 8 e 44 del mattino quando i passi e i destini di due prigionieri si incrociano, siamo su un ponte a Potsdam in direzione Berlino Ovest, qui i due prigionieri si scambiano e nasce il ponte delle spie, da una parte c'è l'americano catturato dalle forze sovietiche, si chiama Gary Powers, è un pilota di un U-2 catturato e abbattuto mentre sorvolava indebitamente la Siberia, dall'altra c'è una famosa spia russa del KGB, si chiama Rudolf Abel ed è stato anche lui catturato, arrestato e processato per aver trovato dei segreti fondamentali nucleari a New York, per la precisione a Brooklyn dove aveva messo su un'attività di falso pittore esattamente davanti al Federal Building.